Nuova fase eruttiva ieri del nostro vulcano, la nona del 2013, iniziata alle 10.30 con l'emissione di cenere dal nuovo cratere di sud-est e proseguita con la presenza di fontane di lava dalla stessa bocca. Siamo appunto vedendo le straordinarie immagini dell'episodio di ieri realizzate dal nostro Vincenzo Barbagallo. Le reti di monitoraggio dei centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, registrata la ripresa di attività stromboliana al nuovo cratere di sud-est dell'Etna, ha registrato poi la progressiva intensificazione accompagnata da un continuo incremento del tremore vulcanico e da attività acustica prodotta durante l'attività esplosiva fino ad evolvere intorno alle 14 in fontane di lava. L'attività eruttiva si è associata a una significativa emissione di ceneri vulcaniche che si sono disperse verso est-sud-est. Inoltre, dalle ore 15 e 15 veniva osservata la produzione di una colata lavica dal nuovo cratere di sud-est in espansione nella parte alta della Valle del Bove. Sulla base delle informazioni e degli aggiornamenti disponibili, il Centro funzionale centrale per il rischio vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità elevata per l'area sommitale del vulcano, per l'attività di fontanamento e l'emissione di ceneri vulcaniche, di criticità ordinaria per la presenza di colate laviche nelle aree del Medio Versante e ancora di criticità ordinaria per le ceneri vulcaniche nelle zone pedemontane e urbane. È rimasta valida l'ordinanza del prefetto di Catania, che proroga fino ad oggi, 4 aprile, l'assoluto divieto di accedere al vulcano sul versante sud, oltre quota 2.920 metri in prossimità di Torre del Filosofo, e sul versante nord, oltre quota 2.990 metri in prossimità di Punta Lucia. Il Centro Funzionale Centrale Rischio Vulcanico del Dipartimento continua nell'attività di vigilanza attraverso i centri di competenza preposti al monitoraggio e alla sorveglianza dei vulcani italiani, INGV e Università di Firenze, attraverso le strutture operative e i presidi territoriali. L'attività vulcanica, monitorata dall'INGV, si è poi conclusa verso le 17.00.